Riccardo, affermato fisioterapista, esercita da molti anni, ma da tempo non vede aumentare gli appuntamenti. Alessandra, neolaureata in fisioterapia, ha bisogno di farsi conoscere. Entrambi necessitano di un partner serio ed affidabile. Fisioterapia-online.it è il portale italiano per i professionisti della fisioterapia. Oggi per contrastare la concorrenza è indispensabile aumentare la propria presenza online. Fisioterapia-online.it ti permette di Trovare nuovi pazienti nella tua zona Creare un profilo professionale Trasformarlo in un sito web con un click Rispondere come esperto alle domande degli utenti Inserire, controllare e aggiornare in qualsiasi momento i tuoi dati personali Fisioterapia-online ti aiuta a migliorare la tua presenza su Google Garantendoti risultati reali e costanti nel tempo Cosa aspetti? L'iscrizione è gratuita e riservata ai fisioterapisti iscritti all'albo Fisioterapia-online. Tienilo a mente!